dalla prima lettera di san pietro apostolo carissimi se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza ciò sarà gradito davanti a dio a questo infatti siete stati chiamati perché anche cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca insultato non rispondeva con insulti maltrattato non minacciava vendetta ma si affidava a colui che giudica con giustizia egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia dalle sue piaghe siete stati guariti eravate erranti come pecore ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime